Ieri in buona sostanza si è chiuso il martirio di questi 17 cittadini di Trieste che hanno lottato per tutelare i nostri punti franchi e a distanza di tre anni questi punti franchi si sono sbloccati. Era il 10 febbraio del 2014 quando nel corso di una manifestazione denominata Ultimatum All'Italia alcuni attivisti, all'epoca tutti militanti nel movimento Trieste Libera, bloccavano l'accesso ai veicoli alla bretella del Portovecchio. Per questo comportamento 17 di loro erano stati indagati dal pubblico ministero Federico Frezza e quindi rinviati a giudizio per una serie di reati. Per alcune delle imputazioni il giudice Marco Casavecchia ha deciso che il fatto non sussiste mandando quindi assolti gli imputati ma viceversa condannando tre di essi per aver impedito ad una vettura di transitare all'interno dell'antico scalo. C'è stata questa soluzione appunto sul capo di puntazione relativo alla donata sediziosa ossia la reversione nei confronti dello Stato ma questi cittadini, i vari di loro, sono stati condannati per aver impedito l'accesso in un punto franco, ricordo che il punto franco deve rimanere chiuso, a delle macchine sostituendosi così a delle istituzioni che non facevano il loro dovere perché l'autorità portuale doveva impedire l'accesso all'interno del punto franco di queste macchine. L'avvocato della Popular Assembly Project, continuo a Vito Potenza, aveva proposto un innovativo difetto di giurisdizione nei confronti del giudice ma nel dispositivo della sentenza messa ieri non si trova traccia della sua valutazione. Io vorrei vedere allora alla fine questa sentenza che a 30 giorni verrà depositata e come ha motivato il giudice Casavecchia il fatto di non essersi espresso con questa incompatibilità sul territorio di Trieste perché ricordiamo che il giudice in questo momento si trova ad operare in Trieste perché è un'autorità esterna alla situazione internazionale della nostra città.